Fobain era un vagabondo, era l'uomo più intelligente che abbia mai incontrato. Non sono mai riuscito a conoscere il suo passato, non voleva parlarne, ma ho sempre creduto che fosse stato un'importante personalità. Dopo il successo dei miei primi libri gli avevo offerto di cambiare vita, ma non voleva mai abbandonare la sua tana sotto un ponte. Era un tipo fuori di testa, trascorreva il tempo a scrivere sul retro di vecchi calendari o quaderni o qualunque cosa trovasse nelle pattumiere. Scriveva fiumi, 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 fiumi di parole, parole senza senso. Un giorno mi fu recapitata una lettera. La aprì e notai per la prima volta che aveva scritto qualcosa di leggibile, più che leggibile. Ogni frase rispettava le regole più sottili della grammatica. Capì che era morto. Tempo dopo attraversai un periodo molto doloroso. Non riuscivo a scrivere e non riuscivo a vivere. Trascorrevo intere settimane seduto alla scrivania senza trovare in me nulla da dire e pensavo spesso a quel torrente di illegibile, di parole su parole che Fobain mi aveva lasciato in regalo. Cominciai a riempire le giornate leggendo e rileggendo quella roba. Non era possibile un momento prima della morte scrivere una lettera così toccante, così perfetta, dopo aver passato una vita a frugare tra i rifiuti dell'umanità per alineare parole senza né capo né coda. Per tre anni mi sono occupato solo di quel mostruoso. E' vero, i giornali parlavano del mio silenzio, della mia impotenza, di afasia, misantropia, ma io ero riuscito a trasformare la mia fine in un'infinita eccitazione. Mille volte ho smontato e rimontato quell'oceano indecifrabile, sillaba dopo sillaba. E infine scoprì il mistero. Era di una semplicità incredibile. Fobain non scriveva, copiava soltanto ciò che era perfettamente scritto nella sua mente. Trascriveva le parole contemporaneamente su nove quaderni, scomponendo le frasi allo stesso modo in cui si scompongono le cifre aritmetiche. Ed era rarissimo trovare due termini che avessero senso l'uno accanto all'altro, se non accidentalmente. Era straordinario. Finalmente riuscì a ricomporre il racconto. Era semplicemente sublime. Non potevo neanche immaginare che si potesse scrivere qualcosa di così puro, di così autentico. Viedi alle stampe quel romanzo con il titolo Il palazzo dalle nove frontiere, sotto la mia firma.